ciao ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video allora oggi è venerdì ed è il giorno della nostra piccola rubrica mia e di adrian's home quindi oggi è un video in collaborazione con lei per chi è nuovo nel mio canale vi dico subito che questa rubrica è stata creata da me e lei ovviamente faccio una apro e chiudo subito una parentesi dicendo che sono cose che facciamo noi in casa e piace solamente condividerle con voi non siamo né maestrine né niente è una cosa che ci piace ci accomuna ed è nata questa piccola passione di queste cose e quindi piace che le condividiamo con voi quindi stavo dicendo sono dei consigli che noi diamo che sono dell'economia di un menù settimanale di come gestire alcune cosine e di dare dei consigli anche per fare delle ricettine veloci oppure anche super veloci oppure di risparmiare un bel po di soldi perché certe volte veramente basta poco per creare dei primi piatti o dei secondi o delle piccole ceno dei piccoli pranzi dei piccoli contorni insomma con poco si può fare niente io oggi vi vado a proporre uno scusate il rumore mio figlio che sta giocando qui sotto e niente io oggi vi vado siccome stavo pulendo il frigo però sono andata anche a fare la spesa quindi sto togliendo un po di cosine e ho messo da parte perché io metto sempre da parte poi per mi baso sulla ricetta che c'ho e quindi mi vado a basare su quello che devo fare quindi vabbè non vi dico quello che devo cucinare però ho messo da parte dei gusti un po di prosciutto della mozzarella due uova e poi condimenti risperse in qualcosa e vado a fare questa ricettina spero che il mio vi anzi io vi saluto qui già da adesso spero che il mio video vi piace scrivetelo mi raccomando nei commenti se avete qualcosa da dire potete contattare sia me e adrianzo oma al suo canale poi vi lascio comunque tutto in info box e niente che dire mi raccomando iscrivetevi ai nostri canali e sostenete con un bel pollice in su e attivate la campanella vi lascio al mio video ricetta e ci vediamo nella prossima puntata ciao 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 ciao